Check this out, ready? Benvenuti qui dalla vostra Dice Popino, il guru della notte partenopea. Chi vi ricorda gli appuntamenti più in di questa settimana? Welcome to the night event of Popino DJ. Sabato sera, appuntamento alle ore 19 allo Zecchino d'Oro Disco Club. Quella grassona di Antonella Clerici, il console remixerà per tutta la notte i più grandi successi di sempre dello Zecchino d'Oro, tra cui... E dicerò che a noi sono le tagliatelle di Mammatina, pieno di energia, effetto vitalina, mangiate con le cose... E anche... Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Ovviamente senza dimenticarci di... Ragazzi, che groove, che sballo! Questa è la musica di noi giovani! Special guest, il mago Zurri! Omaggio trans, tutta la notte! Are you ready? Parte di ore 12 e 30, alle il invece di mangiare sui discoteca Music Club, finalmente a grande richiesta, tutte le protezioni nostre nam, remixate al contrario in ungherese, intervallate da nomi immobili dell'IKEA e sia cazzo! Ricordiamo ai nostri fantastici amici, che se venite con un Marziano, una ruota della Ritmo a Naftale 78 e un piede di porco, entrate gratis tutta la notte... Minchia che offerta! Check this out! Pignadi, ore 25, saremo su Nettuno, per l'inaugurazione del bellissimo locale, lo Star Wars, la guerra dei croni, Astro Visco Club! Cratere Alpha, Aus, anni 80! Minchia e Shiro, due guardie nella palla a volo! Shiro e Nia, amore prima vista! Cratere Beta, Minimal! Cratere Gomba, Eletrofun! Pagano, come se mettono a cantà! Napoli, 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 quei ragazzi nella più al P- Omancio, bombele d'ossigeno tutta la notte! Che ricordiamo che su Nettuno dura 12 mesi! Minchia provateci voi a ballare senza ossigeno su Nettuno Welcome to the night event of Babbino DJ Salve Mosso, Babbino DJ è tutto Appuntamento alla prossima settimana per altre serate da PAURA